Sempre degli anni, vedete 95-2000, arrivando fino a 2050, piramidi, ancora tabelle e allora uno dice, ritornando all'articolo del tempo, in Italia tra, non so, 2018-28-38, tra 32 anni saremo in 40 milioni in più di migranti, e beh, forse no, noi non siamo dei complottari, quindi non possiamo saperlo, ma guardate qual è il dato allarmante, è che fino ad adesso, dal 2002 fino al 2015, ci hanno preso alla lettera 5 milioni, 5 milioni di stranieri qui, e mancano ancora i tre anni, che non ci sono ancora i dati del 2016, 2017 e 2018, quindi siamo quasi a 6 milioni, quindi Alemanno ha detto una cosa precisa, cioè in questo momento c'è un milione in più di stranieri, ci hanno preso quelli lì delle Nazioni Unite, io ho scritto un brano che si chiama Immigrazia, quindi nessun complotto, non sappiamo che cosa succederà nel 2050.